Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. In apertura di questa edizione un'ampia pagina di cronaca partiamo da una news che viene da fiuminata dramma questa mattina poco prima delle 11 un anziano è caduto da un albero mentre lo stava potando un volo che gli è stato purtroppo fatale l'uomo è morto sul colpo sul posto il 118 e i carabinieri ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Altro incidente questa volta torniamo sul dramma che si è verificato nella zona di Agugliano le immagini ci portano nella zona della chiusa dove un mezzo ha travolto una vettura. Un rimorchio che si stacca e come una scheggia impazzita travolge un'auto di passaggio è morto così il conducente della vettura Hub Pistor olandese 56enne ma residente da tempo ad Osimo colpito dalle lamiere in cui lo schianto ha ridotto l'abitacolo dell'utilitaria che stava guidando. Lunghe, difficili e dolorose le operazioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri per estrarre la vittima dal mezzo accartocciato. Cambiamo argomento ci spostiamo nella zona di Senigallia per uno shock al cimitero delle Grazie ieri pomeriggio dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna a dare l'allarma intorno alle 16 una signora che ha notato la vittima sulla scala. Il sabato pomeriggio il cimitero di Senigallia è molto frequentato da chi utilizza il weekend approfittando per andare a portare una fiore ai propri cari. La donna, vittima, 72 anni, residente dell'Interland dopo aver portato dei fiori sulla tomba dei genitori proprio davanti alla loro lapide avrebbe deciso di farla finita. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari del 118. Poteva finire molto peggio l'incendio che nella zona di Monte Granaro nei pressi dello stabilimento ex Stracam si è verificato questa mattina attorno alle 10 e 15 sul tetto dello stabilimento che si trova a lungo via Veregrens. Poteva prendere fuoco molto probabilmente per un cortocircuito i pannelli solari stando a quanto hanno potuto constatare i vigili del fuoco di Civitanova Marche e di Fermo subito intervenuti sul posto. L'incendio come detto non ha riguardato la parte inferiore dell'edificio ed è rimasto circoscritto all'impianto che ricopre il tetto anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Ci spostiamo a Pesaro quando la badante ruba il bancomat alla persona che invece dovrebbe accudire. Un altro caso dopo quello di alcuni giorni fa sempre a Pesaro. Una signora di 62 anni con problemi di salute non autosufficiente ha ricevuto i documenti relativi al suo estratto conto. Risultavano prelievi sospetti almeno 3000 euro circa. La donna ha fatto partire subito la denuncia ai carabinieri di Pesaro che hanno avviato le indagini. I sospetti si sono riversati sulla badante peruviana di 43 anni. Partendo dai prelievi i militari sono riusciti ad avere le immagini di videosorveglianza dell'istituto di credito dove avvenivano questi prelievi e da lì è stato verificato il comportamento della badante. Andiamo ad Ancona perché dopo diverse settimane di assenza forse a causa delle condizioni meteo avverse nelle ultime sere è tornata la prostituzione in strada nella zona del piano. A battere il marciapiede ragazze africane tutte tra i 20 e i 25 anni anche se non si esclude possa esserci la presenza di qualche minorenne. Pantaloni rosa o maglia di colore viola questo l'abbigliamento utilizzato per attirare l'attenzione dei clienti. La zona interessata dal fenomeno è quella di via Giordano Bruno in modo particolare nel tratto compreso tra via Capodistria e Largo Sarnano lungo il marciapiede opposto al muro che delimita l'oratorio dei salisiani. La rabbia dei residenti che si sono sfogati anche sui social network. Andiamo ad Ascoli. Ora è stato chiuso al traffico nel pomeriggio di ieri il tratto della circonvaluazione nord che va dallo stadio del Duca alla prima uscita del campo parignano. Lo stop alla viabilità durerà almeno qualche giorno in attesa che i tecnici comunali decidano come intervenire. Intanto è stata prontamente ripristinata il doppio senso di marcia su via delle Zeppelle. Provvedimento necessario quest'ultimo per evitare di dirottare l'intero traffico veicolare proveniente da Monticelli su via Napoli oppure verso il ponte Maggiore. Questo a seguito di una segnalazione effettuata da alcuni cittadini ai vigili urbani secondo la quale c'era la caduta di alcuni pezzi di roccia dalla parete. Adesso la palla passa ai tecnici comunali. I tempi sono risicati perché già sabato prossimo c'è un importante e delicato impegno casalingo dell'Ascoli contro il Pescara. Questa strada viene utilizzata per raggiungere lo stadio, la struttura sportiva dell'Ascoli. Andiamo a Porto Novo. Buona notizia. A Porto Novo la plastica ha infatti i minuti contati. La Baia si appresta a diventare la prima spiaggia marchigiana plastic free sull'onda di altre famose località turistiche balneari italiane come Rimini, Capri, Sperlonga e Porto Cesario. Porto Novo figura tra le località pioniere di questa nuova pratica virtuosa. Abbiamo già fissato un incontro con un importante fornitore di materiali biodegradabili, spiega il presidente del consorzio La Baia, Marcello Nicolini. L'intento è quello di eliminare entro l'inizio della nuova stagione balneare tutta la plastica monouso. In chiusura parliamo di arte trafugati. Negli anni 70 le sinopie degli affreschi tornano a Castelferretti. Per sovrapporre gli affreschi alle sinopie, ovvero le tele con le linee tinte di rosso usate dagli artisti del 1400 per dare l'ossatura agli affreschi. Quelle tele, una sorta di progetto nell'intonaco sul quale poi si costruiva il disegno vero e proprio, sono state ritrovate a Pesaro in possesso di chi, negli anni 70, era stato incaricato dalla soprintendenza al restauro delle opere all'interno della chiesa Santa Maria della Misericordia, la cappella di famiglia dei Conti Ferretti a Falconara. Il restauratore infedele, strappando lo strato colorato, avrebbe conservato per sé quello sottostante. Un cold case risolto con il ritorno a casa delle opere a Castelferretti, grazie all'indagine avviata dalla procura di Pesaro e condotta dai carabinieri del nucleo di tutela dei beni culturali, che sono riusciti con il supporto della soprintendenza a far combaciare, ad esempio, la linea delle ali dell'angelo che incorona la Madonna che con il suo mantello protegge le persone dai pericoli e dalla peste che imperversava negli anni in cui fu commissionato la fresco. L'indagine è partita da una perquisizione e quindi poi il sequestro da un antiquario del pesarese, per cui poi si è arrivati al restauratore. Chi fa queste cose normalmente lo fa per uno scopo di lucro e l'idea che abbiamo avuto è che non è molto semplice dare via a queste opere, che se una persona è un amante dell'arte può anche decidere di tenersele, almeno fino a quando, come sembra il caso specifico, non abbia magari una qualche necessità economica. Allora, probabilmente questo era il momento in cui queste opere stavano per essere immesse nel mercato clandestino. È stata chiesta l'archiviazione ai primi di marzo e passati oltre vent'anni, se non quaranta, sono tutti reati prescritti. Questo ritrovamento può essere l'occasione per accendere i riflettori e quindi far sì che nella ribalta mediatica arrivi la chiesetta di Santa Maria della Misericordia e quindi anche una progettualità, un discorso di art bonus. Quindi proveremo tutte le strade per cercare di valorizzarla al massimo. Nella stessa operazione sono stati sequestrati anche un altro affresco che dovrebbe essere stato asportato nel Civitanovese, una scultura linea, probabilmente da una chiesa di Ancona e una pala d'altare del Monte Feltro, che ora cercano la loro vera casa. Sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato, però cerchiamo di ricondurli al loro luogo di origine. E in chiusura, come ogni domenica, spazio al servizio con il quale vi raccontiamo il risultato e le gesta sportive dell'Anconitana. Tre punti per spiccare il volo, tre punti per far vedere chi comanda, sempre comandato in questo campionato, tre punti per chiudere ogni discorso e ogni superflua polemica. Ben trovati allo Stato del Conno e benvenuti a Anconitana, la simostazione da parte di Claudio Marconi, che cura come sempre la telecronica, ancora la simostazione con il Calvigioni per Bugiolacchi. Al limite dell'era per Bugiolacchi si gira la parata di Lory. Trombetta potrebbe anche calciare in porta per come ha preso la rincorsa. Vediamo, perché è fottuto lo lascia presagire. Invece c'è il lacrosse, un secondo palo Mercurio! Palla alta di poco, ecco il lacrosse di Trombetta, il colpo di testa di Bugiolacchi, poi Marengo! La parata di Bottaluscio! In seguito da Ruival, se ne va Boccolini, rientra sul sinistro, prova, poi un tiro. Bella l'idea brutta, l'esecuzione, palla finisce altissima. Siamo al 19ese del primo tempo, il lacrosse di Pucci, Bottaluscio con i pugni non bene, Ruival! Spara in curva da pochi passi. La squadra di Biancorossa prova il contropiede, la palla sulla corsa per Mastro Luzio, che può andare solo in area di rigore, Mastro Luzio e il tiro! E la Coritana fa in vantaggio al primo vero, tiro in porta, e con chi? Ma con chi se non? Con Salvatore, Mastro Luzio al diciottesimo. Quarto gol stagionale di Mastro Luzio all'ultima stazione, eccolo ancora Mastro Luzio! Di testa, la palla finisce di poco alta. Bottaluscio, errore per la salata del portiere. Bisciano, il lacrosse sul secondo pallo, Mastro Luzio si coordina! Palla finisce alta. Mastro Luzio di prima, Marengo, la palla di ritorno, si gioca bene la conitana. E il trenare di rigore, la vipera, la palla di sinistro, Bottaluscio come può poi Ruival! Ancora Bottaluscio, miracolo dal 2! Murato, l'osimo stazione si salva! Marengo, inserimento di Zagaglia, solo davanti al portiere Zagaglia, la parata di Bottaluscio! Stavolta però sontuoso il suo lancio per Boccolini che evita Zagaglia, ancora evita anche Marengo, prova il tiro! La palla finisce di poco alta! Secondo tempo iniziato in quest'istante! Cross di Trombetta Mercurio! Il cross di Pucci, il colpo di testa di Zaldua! 2-0, Ezequiel Zaldua! Pucci, che ha un po' di spazio, si fa vedere Mastro Nunzio sulla corsa, servito il capitano in posizione regolare, il tocco sotto che finisce fuori. Ancora già subito il rinvio, perché ci sono due contro due, lo stop di Ruival che manda in porta Ezequiel Zaldua in posizione regolare! E tutto solo Zaldua! Palla alato di pochissimo! Ruival salta un giocatore, ne salta un altro, 4 contro 2 praticamente Ruival! Palla in mezzo, è riuscita ad arrivare Carloni invece di un giocatore della Conintana che si è mangiata la Conintana in contropiede! Standing Ovation, strameritata, la cross, attenzione all'intervento di Staffolani! McCree che litiga un po' col pallone, ancora Stolfi! Ed è in rigore il tiro! La palla di poco a lato! Il cross è the game over all'Aldelconno, la Conintana batte 2-0! L'ossimo stazione grazie a Salvatore Mastro Nunzio, Ezequiel Zaldua ed è praticamente con un piede in mezzo in eccellenza! Basterà vincere! Domenica prossima in casa della Villa Musona Recanati per ottenere il pass definitivo per l'eccellenza! Con le immagini salienti del nostro Claudio Marconi che ha curato la telecronaca dell'Anconitana si chiude questa edizione marchigiana di Etigi! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento!